Le scuderie italiane trionfano nella più grande corsa europea di trotto. Il Gran Premio d'America, dotato di 200.000 franchi di premi, all'ippodromo di Vincent. La partenza è data a 17 concorrenti. Il favorito Mesleton, la vincitore nel 1935, partito con una penalità di 25 metri, colma rapidamente il distacco e con azione regolare e veloce rimonta, pur girando a largo, tutti i rivali, fingendo prima al traguardo, mentre i trottatori italiani, Tara, Mary Sunshine e Network si piazzano ai posti d'onore.